Un bottino ancora da quantificare è ciò che resta di una scena da far west accaduta nel pomeriggio a Molfetta in via Tenente Fiorini nei pressi della banca Carime. Sono le 16.30 circa quando una banda di tre o quattro malviventi a bordo di un furgone sfonda con la parte posteriore del mezzo la vetrata dell'istituto di credito e in pochi attimi e con estrema facilità porta via la cassaforte che contiene il bancomat. Pochi istanti che permettono nonostante tutto ai carabinieri di arrivare sul posto. I malviventi non si fanno intimorire, tirano fuori le armi, si parla di Kalashnikov e sparano. Nasce un conflitto a fuoco con i militari, nessuno resta ferito. Poi i malviventi abbandonano il furgone e salgono a bordo di un SUV che li attende a pochi metri dalla banca e fuggono via. Lungo la strada carabinieri e polizia locale intervenuti hanno trovato alcuni bossoli. Fonti ufficiali sostengono che i malviventi indossassero giubbotti antiproiettili, un segnale attraverso il quale si intuisce che il colpo era stato pianificato nel dettaglio e che i malviventi avevano preventivato ogni evenienza.